oggi rosario olivatino avrebbe compiuto 60 anni come lo immagina in chiesa noi siamo grati al padre al padre dei cieli che ha dato a noi un viglio così grande un viglio rosario che indubbiamente ha illuminato non solo il nostro quartiere non solo la nostra chiesa ma vorrei dire ha illuminato le istituzioni ha illuminato le famiglie ha riscoperto quei valori che erano sopiti i valori della pace i valori della giustizia e certamente noi siamo oggi felici di ricordare la nascita avvenuta 60 anni fa però per noi rosario continua a essere presente in mezzo a noi presente col suo spirito presente con il ricordo di una vita intemerata presente per il coraggio di una testimonianza presente con l'eroismo del martirio martire della giustizia e pertanto mentre noi ricordiamo riflettiamo e mi auguro cari amici che mi sentite mi ascoltate seguiamo questi esempi luminosi noi l'abbiamo vicino molti di noi ricordano fatti momenti occasioni parole ricordiamo per imitare imitiamo per proporre imitiamo per testimoniare io credo che il valore di elevatino oggi sia questo scoprire valori e pertanto elevatino non è solo un personaggio storico ma è uno che vive ancora perché per noi cristiani vive in dio e ha una funzione quale funzione dicevo di richiamare i valori di riproporre una vita intemerata di sacrificare qualsiasi cosa per il bene per il bene comune ci auguriamo che da questo martire derivano si scoprano continuano altri testimoni testimoni di coraggio di verità di ricerca di pace di testimonianza di valori e allora mentre noi richiamiamo livatino proponiamo noi stessi nel nostro piccolo di essere ancora testimoni dei valori molti oggi da noi si aspettano tanto 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 tanto